La notizia era nell'aria da giorni ma ora è arrivata la tanto attesa ufficialità. Lebron James è un nuovo giocatore dei Los Angeles Lakers. Il 33enne lascia Cleveland per la seconda volta e si sposta per la prima volta sulla costa ovest dove indosserà la maglia giallo-viola provando a far risalire la china alla franchigia californiana che da ormai troppi anni sembra l'ombra di se stessa. Il 4 volte MVP di NBA, il 3 volte MVP delle Finals, il 14 volte All-Star e il 2 volte medaglia d'oro olimpica ha firmato un quadriennale da 154 milioni di dollari. King James è pronto e ha un solo obiettivo, l'anello da conquistare con un terzo club della Lega Stellestrice che lo lancerebbe ancora di più nell'Olimpo della pallacanestro.